meno tre due uno buongiorno a tutti che male c'era una lattina e coca cola putta mierda buongiorno a tutti i miei nomi benvenuti questo nuovo video sugli skywars oh mio dio tanto tempo che non li portavo volevo portarli quindi ragazzi siamo qui con gli skywars modalità cileno minatore siamo su fear games dopo vi lascio l'ip sotto in descrizione mi raccomando in fondo ok ragazzi siamo in partita e scegliamo anche le cesto p perché noi possiamo farlo perché siamo youtuber perché chi non è uno youtuber è un coglione e faremo la strage perché adesso vi faremo vedere la potenza del minatore cileno cercherò di vincere tutte le partite e ragazzi scopo di questo video se non riesco a vincere tre partite intere di skywars voi sotto nei commenti proporrete una penitenza ok ok ragazzi le ceste l'ender per parto l'ender per ragazzi quindi dovete sperare che io perda cioè cosa cosa volete più della vita se non un lucano dammi una spada un più grande mele d'oro un po' di lava madonna mi sento un pro mi sento un pro mannaggia la bovazza via prendiamo la nostra ma lì no devo parlare come un cileno quindi non parliamo strane lingue napoletane cose robe quindi hola todos come stanno oidia vamos a ganare sta cosa di questa lucha questa lotta si si può dire andiamo a vincere questa lotta negli skywars e facciamo strage di cadaveri venite qua faccia di merda allora dec andiamo a fare strage si va a comandare si va a comandare sono anche senza cuffie vieni qua vieni qua sacco di merda sacco di merda sacco di merda retta bitch allora sharpers 1 sharpers 1 oh madonna questa la no 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 teletransportati teletransportati che palle ok ragazzi è iniziata un'altra partita e ho messo ovviamente c'è sto p perchè sono troppo p perchè se non metti il c'è sto p non sei nessuno allora mettiamo subito cosa andiamo a uccidere quella personcina laggiù dove sei lezza 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 oh rect 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 ah bello gli sta utilizzando tutti oh ha trovato la spada OP questo madonna tipo di bene dai eh faccia di cane mamma mia rettato anche questo l'avete visto l'avete visto ti sei chiuso sotto terra ma qui solo uno è il minatore unico e ufficiale della terra e sono io allora la c'è la gente in mezzo non ci voglio neanche andare vieni qua non mi ha visto non mi ha visto dove è andato sei suicidato uno due tre uno due tre vai giù vai giù rettato dai eh dai eh muori ho vinto wow palpeople unico sudamericano non è una maracas in casa ogni volta che vin surgeon la maracas al caramba ok ragazzi iniziato un'altra partita ovviamente il buon tizio ha votato chest OP perché se non voti il chest OP si la banca e la banca deve bruciare mi raccomando Prendiamo un po' di belle robe Abbiamo già trovato la spada più OP del gioco Il problema è che non c'è un'altra cesta E io sono stato sfigato Non ci sono altre ceste, siamo seri? Allora, togliamo questa cosa Non è vero, è impossibile Devo guardare, devo controllare Io non voglio morire Ah, eccola, eccola Eccola la nostra cesta Ecco quello che volevo, che cosa carina Faccia Da schifo Ok ragazzi, ok ragazzi Ammetto, ne ho perso una Però dai, dai Non è giusto Un minatore andò Sotto terra E trovò una cesta molto forte Con la spada In diamante, la lava E anche la Enderpearl Ho trovato nulla Noo Nulla Lassù deve esserci qualcosa Eh, porca puttana No, no, la ragnatela Non la ragnatela Vattene via La ragnatela di merda Non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla Non ci posso credere Devo andarmene Verso quell'isola Dai eh Muovete Quanto sei faccia da cane A nasconderti sotto terra Noo Quindi ragazzi Per questo video è tutto Mi dispiace Ma mi sto pian piano Preparando all'idea Di sotterrarmi Sotto terra Perché ho perso Non ho vinto Neanche una partita Praticamente Quindi ragazzi Spero che questo video Mi sia piaciuto Mi raccomando Sto cercando di indicarvi Da qualche parte Vabbè Mi raccomando Passate anche sotto In descrizione Che ci sono tutti i social network E anche per comprare giochi A basso prezzo E ci vediamo domani Alle 19.30 Con un nuovo video Da qui se avete tutto Ciao a tutti Puuu